Questa è la nuova Audi Q3, un'auto che è completamente nuova nel design e anche nei contenuti. Non vedo l'ora di mostrarvi tutte le novità di questa nuova generazione. Dal vivo opera e sportiva la nuova Audi Q3, grazie a una carrozzeria che mette in mostraline nette gruppi ottici affilati con led integrati a forma di freccia, i quali puntano direttamente verso la calandra single frame, tipica delle Audi, ormai di dimensioni generosissime e con listelli verticali cromati. Sull'allestimento S-Line i dettagli estetici sono in tinta con il colore della carrozzeria e non neri come in questo caso, un dettaglio che cambia decisamente l'aspetto dell'auto soprattutto quando abbinata a cerchi lega di grandi dimensioni. Considerate che possono arrivare fino a ben 20 pollici di diametro. Anche dietro i fari sono a led e si uniscono perfettamente ai fianchi imponenti della Q3, ingombri che aumentano la presenza su strada del modello. Wow che cambiamento epocale per quel che riguarda la Q3, vi ricordate alla generazione precedente era molto più morbida nelle linee, gli interni erano pensati con queste linee tondeggianti, adesso è completamente all'opposto. Ci sono infatti delle forme tridimensionali che puntano a venire al di fuori della plancia e quasi ad avvolgere il conducente, con linee tese, taglinetti, vedete soprattutto questa parte qua mi piace veramente tantissimo, questa cornice di colore alluminio che va a fare proprio da contorno allo schermo dell'infotainment, perfettamente integrato all'interno della plancia. Per quel che riguarda la qualità dei materiali, Audi è famosissima per dare una grandissima attenzione agli interni, anche in questo caso per quel che riguarda poi rotelle, tasti, comandi, tutto quanto è veramente pensato per essere al top nel segmento. L'unica cosa che non mi è piaciuto è un po' l'abbinamento delle plastiche con gli altri materiali, in particolare sul volante ci sono questi abbinamenti, questi tagli che vanno un pochino a perdere quell'attenzione al dettaglio, sono un pochino al di sotto degli standard Audi, almeno per quel che ricordo io, ma anche ad esempio sulla portiera, questi abbinamenti tra una plastica nera e la plastica colore alluminio sento quasi a passare la mano un pochino di scalino, che non è diciamo una delle cose che trovate sulle Audi di solito. Quindi qui c'è stato un pochino secondo me di calo per quel che riguarda la qualità, in particolare negli abbinamenti dei materiali, non per quel che riguarda gli assemblaggi, per quel che riguarda le sensazioni toccando i comandi classici che si toccano tutti i giorni. Audi MMI Plus è il sistema di infotainment più ricco della gamma Q3, dotato di un pannello full HD da oltre 10 pollici e di tutte le ultime tecnologie, compreso il riconoscimento del linguaggio comune per i comandi vocali. È di serie a partire dall'allestimento business, funziona molto bene e per fortuna direi, dato che il costo di acquisto si aggira sui 2000 euro sull'allestimento base. Volete sapere quali ristoranti si trovano in zona? Basta un comando vocale e poi sfruttare le mappe in 3D ed il traffico in tempo reale per raggiungere la vostra destinazione. Sono incluse anche i servizi Audi Connect Navigation ed Infotainment, che includono tra gli altri anche una rete wifi a cui connettersi con il proprio cellulare, invio e ricezione di messaggi ed email, calendario, twitter, notizie online, prezzi del carburante ed anche il meteo, tutto in tempo reale. Utilissimo poi l'Audi Virtual Cockpit, disponibile in due dimensioni, 10,25 e 12,3 pollici. In entrambi casi le informazioni fornite sono veramente tantissime e la grafica è personalizzabile a gusto del cliente. Lo spazio per chi sta davanti è piuttosto buono, diciamo che non è da record ma comunque ci si riesce a stare abbastanza comodi qua dentro. In tutte le direzioni ho una buona quantità di spazio. Le gambe sono un pochino rannicchiate, non il massimo nei lunghi viaggi, però grazie alle empi regolazioni del sedile guardate quanto riesco a scendere, sembra quasi di stare su una berlina piuttosto che su un SUV, beh allora riesco a trovare una buona posizione nonostante io salto un metro e 85 quindi di solito sto un pochino stretto nell'auto però in realtà qua riesco ad avere una buona posizione di guida. Il volante va giù in profondità e anche in altezza con escursioni molto ampie, questo è ottimo perché riesco ad avere una posizione di guida cucita attorno alle mie necessità e poi se vado ad aprire anche la portiera guardate quanto è profondo, quanto è capiente la tasca all'interno della portiera. Tra l'altro qua dentro abbiamo anche il gilet di emergenza, riesco a metterlo bene in fondo senza che mi dia fastidio un sacco di altro spazio a disposizione. Al centro ci sono due portabicchieri magari per mettere giusto il cellulare, lo posso posizionare qua e poi una piccola mensolina, qui credo ci sia spazio soltanto giusto per le chiavi di casa e forse un paio di monete, qualche cosa così ma niente di più. Qui davanti invece abbiamo una mensola che serve per poter contenere il cellulare e se installate la ricarica di induzione wireless della lista optional potete anche mettere il cellulare quindi lasciarlo ricaricare senza doverlo collegare all'auto. Per farlo comunque avete la possibilità di utilizzare la presa usb, ce n'è soltanto una, tra l'altro si può avere come pacchetto opzionale in questo caso più prese che possono essere tra l'altro anche di tipo C quindi le ultime prese disponibili per gli smartphone e poi sotto il bracciolo anteriore abbiamo un cassettino non molto profondo a dire la verità ma ci si può mettere ancora qualcosina. Non mi è piaciuto per niente invece il cassetto qua davanti al passeggero anteriore ricoperto in moquette, questo è ottimo però guardate lo spazio a disposizione, davvero poco, ci sta giusto il portadocumenti e poco altro veramente. Un'altra cosa che per me è molto importante, ormai lo sapete non c'è uno spazio per gli occhiali da sole. Alla sinistra del volante abbiamo anche un piccolo cassettino che può contenere ad esempio un mazzo di chiavi oppure qualche piccolo oggetto che oltretutto in movimento non fa rumore perché il cassettino è ricoperto di moquette. Come dicevamo è un SUV più o meno da 4,50 metri quindi può essere una prima auto tranquillamente, può andare bene più o meno in qualsiasi situazione soprattutto quando si ha necessità di trasportare anche sui passeggeri posteriori qualche ospite, può essere il figlio, può essere un amico, insomma ci sono tante necessità diverse. Guardate quanto spazio ho a disposizione per le gambe, per la testa riesco a stare veramente comodissimo. Ci sono due bocchette d'aria condizionata, fantastiche nella stagione estiva, due prese usb e un'altra presa di ricarica a 12 volt, quindi anche chi sta dietro può ricaricare i propri oggetti senza nessun problema. Diciamo che vogliate viaggiare in 5 e non in 4, beh la situazione non è proprio l'ideale, guardate per le gambe e per i piedi insomma riesco ad avere un buono spazio ma magari per pochi chilometri non per lunghi viaggi, sicuramente qua dietro ci si sta meglio in 2 piuttosto che in 3. Un'altra cosa interessante da far notare è la forma della leva, molto particolare rispetto alle auto solide più o meno, con due dita vado a tirare e apro tranquillamente, molto più comodo rispetto a fare quest'altro movimento che comunque è possibile fare. Davanti e dietro ci sono le stesse leve ovviamente, la stessa forma. Al centro abbiamo tra l'altro la possibilità di abbattere la porzione centrale, non c'è un bracciolo centrale vero e proprio ma c'è questa possibilità quindi che permette di far passare oggetti lunghi. Oltretutto guardate se io tiro la leva qua sotto posso far scorrere avanti e indietro il sedile sdoppiato 40 e 60 quindi questo mi permette di modulare lo spazio a disposizione per i passeggeri e per il bagagliaio. 675 litri di capacità minima del bagagliaio, mi si è rispettato qualcosa di più, guardate quello che c'è stato all'interno, solo 3 valigie su 4 del nostro set, la medio grande rimasta lì fuori. Troviamo posto quindi per queste valigie, c'è ancora un pochino più di spazio, certo qualcosina qua sopra ci si può mettere ma per far stare l'ultima valigia avrei dovuto rimuovere la cappelliera. Comunque ho un asso nella manica per poter modulare un pochino di più lo spazio del bagagliaio, in particolare posso andare a spostare lo schienale del divanetto posteriore su diverse posizioni per regolare quindi lo spazio di carico e avere quindi uno spazio un pochino più squadrato e soprattutto guadagnare un pochino più di litri magari per mettere qualcosina in più. Al di sotto del ripiano troviamo ancora un po' di spazio per la ruota di scorta e tra l'altro il ripiano può essere posizionato in una posizione intermedia che mi permette in questo modo di andare a lavorare al di sotto senza averlo in mezzo ai piedi. E poi questa protezione in metallo bellissima lucidata da una grandissima sensazione di solidità e di cura posso far scorrere le valigie tranquillamente senza nessun problema. Sono molto contento del fatto che quest'auto non sia un diesel, finalmente riesco a provare un SUV che non ha il solito motore 2000 turbo diesel o similari. Del resto quest'auto ha un 1500 turbo benzina, 150 cavalli, particolarmente prestazionale di conseguenza e che tra l'altro abbiamo anche imparato già a vedere su tanti altri modelli della gamma Volkswagen. Qui però stiamo parlando dell'Audi Q3 35 TFSI, un'automobile dotata sia di cambio manuale che di cambio automatico come in questo caso, è un 7 marce doppia frizione e non può essere dotato della trazione 4x4, ma è soltanto quella una prerogativa di motorizzazioni più potenti come il 2000 turbo benzina o il 2000 turbo diesel. Parliamo di un motore che è in grado di spingere la Q3 da 0 a 100 in 9,2 secondi e soprattutto a 207 km orari di velocità massima, quindi una potenza elevata e soprattutto una coppia a 250 N per metro di valore massimo espressi già a partire da 1500 giri, che è un risultato molto buono contando che questo è un turbo benzina e non un turbo diesel, infatti di solito sono i turbo diesel a derogare tanta coppia in basso, qua invece in questo caso stiamo parlando di un turbo benzina, cosa positiva? Sicuramente perché il turbo benzina costa meno l'acquisto rispetto al 2000 turbo diesel e per chi fa pochi chilometri risulta comunque una soluzione molto valida, sia per quel che riguarda, come vi dicevo, le prestazioni dichiarate, infatti il 2000 turbo diesel da 150 cavalli fa più o meno le stesse prestazioni dichiarate da scheda tecnica, ma soprattutto per quel che riguarda le sensazioni, quest'auto riesce comunque a trasmettere un'ottima capacità di buttare a terra la potenza, anche in accelerazione ma non soltanto perché poi anche muovendosi nel traffico quotidiano riesce a districarsi bene, a riprendere dal basso con una bella progressione ed arrivare poi fino a velocità anche molto elevate come vi dicevo. Lo si sente fin dai primi chilometri, quest'auto ha un'impostazione sportiva sia per quel che riguarda l'assetto che per quel che riguarda anche la direzionalità dello sterzo, del resto lo sterzo è molto rapido nel dare direzionalità all'auto quindi con il minimo movimento sento già la vettura che si appettisce in curva e comincia a seguire la sua traiettoria, quella che voi volete che lei segua. Per quel che riguarda le sospensioni sono un po' rigide, soprattutto considerate che questo esemplare ha cerchi da 18 pollici, quindi dei cerchi non grandissimi, che però già fanno sentire qualcosina dall'asfalto, qualche vibrazione di troppo quando si incontra magari una buca un pochino più profonda oppure un tombino. Quindi di conseguenza andrei magari su questi cerchi se cercate un genere di guida più confortevole, non andrei su dei cerchi più grandi, di dimensione, di diametro più grande perché lì allora sentireste ancora di più le vibrazioni. Ci sono un paio di cose che però non mi hanno convinto come ad esempio la taratura del cambio. Se vado a premere a fondo il pedale dell'acceleratore, il motore comincia a lavorare ad alti giri ma il cambio non gli dà la marcia successiva, quindi mi tiene troppo a lungo sulla parte alta del contagiri, di conseguenza non vado a sfruttare tutta la coppia motrice che potrei sfruttare per poi andare ad aumentare la velocità. Quindi l'avrei voluto un pochino più intelligente da questo punto di vista. Per quel che riguarda invece lo sterzo è un po' troppo leggero. Come vi dicevo è molto diretto ma è troppo leggero come taratura. Si può risolvere installando l'Audi Drive Select che è un sistema che permette tramite la pressione di due tasti di irrigidire o ammorbidire sia le sospensioni nel caso in cui avete installato le sospensioni a controllo elettronico che anche lo sterzo e dare comunque al motore una vigorosità più spigolosa, più capace di essere sportivo nel momento in cui adatta premere il pedale del gas ma in quel caso dovete comunque appunto andare a selezionarlo dalla lista optional ed è una cosa che onestamente farei perché permette di dare all'auto un comportamento che sia sportivo che confortevole a seconda dei casi. E infine sono curioso che molti di voi vorranno sapere qualcosina in più sui consumi. Beh per quel che riguarda quest'auto sono riuscito ad avere ottimi consumi secondo me soprattutto per quel che riguarda le situazioni di traffico scorrevole. In quel caso infatti si riesce a stare tranquillamente sui 12-13 chilometri con un litro mentre chiaramente quando si va ad affrontare il traffico intenso di una città allora in quel caso tra i continui start and stop che si è costretti a fare i consumi aumentano un po' più o meno farete comunque circa 9-10 chilometri con un litro. La nuova Audi Q3 è anche dotata di molti sistemi di assistenza alla guida. Ovviamente si possono scegliere pacchetti opzionali che aggiungono ad esempio cruise control adattivo e guida semi autonoma di livello 2. Nel conducente debba azionare pedale e sterzo pur rimanendo ovviamente sempre vigile sulla strada. Peccato però che alcuni assistenti come sensori di parcheggio anteriori e posteriori non siano sempre di serie cosa che obbliga a mettere mano al portafogli per evitare problemi in manovra. Insomma abbiamo visto cosa ad offrire questa nuova Audi Q3 rinnovata esteticamente internamente e anche come contenuti. Sono anche contento di avervi potuto mostrare le potenzialità di questo motore il 1.5 a 4 cilindri 150 cavalli. Un motore ideale se volete fare pochi chilometri all'anno ma soprattutto comunque molto valido se cercate anche le prestazioni come vi ho già avuto modo di dire. Noi ci vediamo alla prossima sempre qui su DriveK e non dimenticate di cliccare qua sopra in alto a destra per poter vedere il listino completo di quest'auto con tutti i prezzi, i livelli di allestimento, le motorizzazioni e anche la possibilità di richiedere un preventivo gratuito. Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao! Ciao!